Ogni eroe ha la sua nemesi, per ogni Superman esiste una kriptonite o almeno questo è quanto si evince da quanto successo l'anno scorso in quello che è stato il match delle sorprese. Nello scorso campionato l'hanno promossa Cuneo, sia nella gara d'andata sia in quella di ritorno è riuscita a sconfiggere una Scandicci che correva sui sentieri della Champions. Ad un anno di distanza però tutto è cambiato, la prima sfida stagionale tra queste due squadre non è nel capoluogo della granda come nel campionato 2019-2020, ma si disputa alle porte di Firenze e nelle fila di entrambe le squadre sono nove i volti nuovi. Con l'emozione per la prima volta davanti al proprio pubblico e con la voglia di sfatare il tabuc Cuneo, la Savino del Bene vuole dare continuità alla vittoria ottenuta durante il primo turno di campionato quando a Cremona contro la Eppiupo Micas al Maggiore è arrivata la vittoria al tiebreak al termine di una maratona da 2 ore e 28 minuti di gioco. Dall'altra parte invece la formazione del confermato coach Pistola cerca un pronto riscatto dopo la sconfitta patita domenica scorsa nel derby piemontese contro Novara. In avvio di gara il neotecnico scandiccese Marco Mencarelli conferma le scelte di una settimana fa, Malenova al palleggio, Slotis da opposto, Lubian e Stevanovic da centrali con Pietrini e Milenkovic in banda e Merlo dal libero. Coach Pistola invece schiera Cuneo con Cambi in diagonale con Vaneke, Candy e Zambelli al centro, la capitana Nisetic e Marcovic in banda e Zannoni dal libero. Nel primo set la partenza è nel segno dell'equilibrio ma a metà frazione la bosca San Bernardo Cuneo prende il largo e sull'8 a 12 Mencarelli deve chiamare il time out. L'emorragia scandiccese non si arresta e sotto i colpi di Vaneke Scandicci scivola sotto 13 a 20 prima di arrendersi sul 15 a 25 firmato da Nisetic. Il secondo set vede le due squadre combattere punto a punto e lo scambio del 10 a 10 è da Cineteca. Mencarelli mischia le carte inserendo Brissio al rientro dagli impegni con la nazionale, con Colesca e Carraro ma anche le sostituzioni non cambiano il risultato. Cuneo fa sua la seconda frazione per 22 a 25. La terza di frazioni sembra segnare la riscossa della Savino del Bene. Slotis scalda il braccio e guida le compagne. Il contributo di Stisiac fa il resto e Scandicci riapre la gara vincendo 25 a 13. Il pubblico del palazzetto dello sport di Scandicci comincia a credere nella rimonta ma nel quarto set nuovamente Cuneo a mostrare i denti scappando fino al 10 a 15. Cambi gioca bene con i centrali, Vanek continua a martellare così la Savino del Bene finisce al tappeto per la terza e decisiva volta. Il quarto set si chiude 22 a 25 con Stisiac a cappestare la linea dei tre metri per l'infrazione che decide il risultato finale. La Bosca San Bernardo contro i pronostici della vigilia vince con merito a Scandicci e si conferma la criptonite delle Fiorentine.